Sì! Sì! Mi sveglio segreto, posso? Sì! Sì! La carta è buonissima. Mascarpone in terra. Bravo! Questo è il mio motto per noi. Ci saremo sempre un video per gli altri. Sì! In tutte le occasioni, come un matrimonio, la buona, la grandiva sorte, in salute, e malattia, esatto. Grazie, sempre! Sì! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.